Sono Marco Lanza, consigliere comunale elettro-nistra civica per Antonelli Sindaco, capogruppo della lista. Appartengo all'associazione culturale denominata Libertas, di matrice democristiana, che opera sul territorio da circa 20 anni. I miei obiettivi sono, dal punto di vista politico, promuovere lo sviluppo economico sostenibile e sociale. Dal punto di vista personale sarò presente sul territorio, attento a tutte le esigenze dei cittadini, perché sono consigliere di tutti, a prescindere dal colore politico, perché le vostre esigenze sono le mie priorità.